ehi ragazzi ciao da nick e bentornati qua su farming simulator 15 allora ragazzi allo scorso gameplay se vi ricordate finalmente siamo riusciti a comprare il mega trattore non il più potente ma comunque sicuramente molto meglio di quello che abbiamo avuto finora vediamo se riusciamo finalmente ad utilizzarlo per qualche cosa comunque ho fatto un po quasi il pieno così il nostro macchinario qui può continuare a lavorare ancora a lungo usa percorso e vai c'è ancora un po di insilato da dover vendere vediamo un po a che punto siamo qui con la vendita qua ok ancora la metà ci entra va bene allora qui c'è da raccogliere ok mi pare che mi pare che possiamo di nuovo tornare a raccogliere anche possiamo tornare a trinciare mi pare no l'erba è ricresciuta quindi se l'erba è ricresciuta vediamo un po di trovare vediamo un po di trovare un percorso utile eccolo qua giro 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 tondo quanto è bello il mondo casca la terra tutti giù per terra boom e allora mi butto ok perfetto quindi questo lavora ok allora fiammo un attimino questo mega trattore iniziamo un po ad usarlo mi serve per portar via da la quel come caspita si chiama il rimorchio qua ho la necessità di spostarlo lo togliamo un attimo dalle scatole oh mo non ho problemi a trainare le cose va che roba allora innanzitutto scarichiamo questo che è di nuovo pieno perfetto poi rimettiamo al lavoro questo ok qui sta per finire di scaricare rimettiamo il lavoratore a lavorare ok il tizio lavora aspetta comunque qui praticamente sto coltivando perché poi alla fine ah si 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 ora mi ricordo dobbiamo dobbiamo seminare qua e appunto mi serviva un trattore potente anche per questo difatti usare questo trattore solo per la raccolta delle barbabietole non ha senso ah ora mi ricordo adesso mi ricordo allora dovevo seminare il mais perché l'avevo venduto tutto difatti qua è selezionato il mais oh cacchio ok ci siamo oh yeah ragazzi e si inizia la semina del mais con il nostro nuovo mega trattore potente eccetera 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 soprattutto le informazioni più importanti stanno sull'eccetera eccetera comunque vediamo se riusciamo a sto andando un po troppo ecco è quello il problema vorrei farvelo vedere un po meglio ma guido poi storto adesso adesso risolviamo ok fatto allora vediamo un po di guardarcelo un po meglio da vicino dai mega trattore anche bello dettagliato ma c'è giusto giusto deve passare il tizio con la macchina t8 435 435 sono i cavalli di questo trattore ok va che è una meraviglia allora c'è già il mezzo che ha bisogno di scaricare va bene va bene devo prendere questo dov'è andiamo questo e andiamo a scaricare un'altra volta ma è una scocciatura scaricare questo dannato mezzo ogni due minuti ogni due minuti ci stavo da dietro ci devo stare va ok scarica pure compà che qua abbiamo anche quasi il pieno guarda aspetta che stavo partendo ok aspetta che mi tolgo aspetta che mi tolgo aspetta che mi tolgo 75% ok allora facciamo una bella cosa ho io le mie trebbie buttate in giro e me sa che è arrivato il momento che le mettiamo un po' a lavorare altrimenti non ha molto senso mi sa che mi tengo questo mezzo lo metto qua nel terreno numero 10 scarico lavorerai vabbè teniamo teniamo quella di trebbia la t5 quella piccolina la faccio lavorare qua dai ok usa percorso diciamo che qua non mi piace usa percorso qui devo mettere credo automatico bene ok devo andare a controllare un'altra cosa ecco questo questo mi cancella il raccolto stoppati prima che mi vai a cancellare il raccolto cavolo ok ho bisogno di un altro trattore che dovrei avere qua da qualche parte ci dovrebbe essere un trattore eccolo questo qui appunto mi serve adesso diciamo che tanto beh si diciamo che tanto si continua dopo con la coltivazione mi serve questo trattore nel terreno numero numero 20 si nel terreno 20 mi serve eccolo la è già collegato questi sono già tutti e due collegati vero va bene allora terreno 20 scarico lavorerai tu con la rsm si chiama no non mi ricordo mica bene guarda che si chiama axial flow b usa percorso ok vai a scaricare eh cioè vai per ora eeeh dove sta eccolo qua un'altra volta sempre che deve scaricare adesso io ho mandato i trattori vedete la quello sta andando nel terreno 20 a prepararsi lì andiamo lì tra poco andiamo a raccogliere i due abbiamo due terreni insomma che devono essere trebbiati va l'unica scocciatura è sto tizio qua che ogni due minuti è sempre pieno dai se no questo terreno non lo finiamo mai più ma manomale che è quasi finito va comunque 75 per cento abbiamo fatto 15 per cento quindi mi sa che mi conviene che vado a scaricare va vai così andiamo a scaricare vai che è già bello che è pieno mi pare che sta funzionando tutto bene la sotto cancella sto percorso tanto non serve più vai così comunque qualcosa che lampeggia che cos'è sempre quello del mais non me lo ricordo mica ok bene è arrivato pigliamo questo questo che cos'è colza non mi ricordo mica oh cacchio siamo fortunati perché qui c'è qualcosa a diamine meno male che c'ho due cassoni sto pochetto che resta qua lo metto qui va bene va bene perché questo non è orzo se non sbaglio questa è colza no? se ok sto usando la axial flow facciamo così diciamo al tizio di andare a scaricare va ok ok ho mandato il tizio il trattore indietro così che va a scaricare quel poco lì che gli ho dato perché anche se si tratta solo di mezza tonnellata quel cassone non lo posso usare non posso mischiare orzo con colza quindi mandiamolo via tanto che ci vuole torna subito ok anche se per l'appunto non penso che riesco neanche a riempire un cassone però non si sa mai ok facciamo così facciamo così perfetto guarda alla grande accendiamo anche questi lampeggianti eccolo la lo sapevo ok ok qui ci metto l'operaio qui è praticamente finito bene ok qui è finito dai andiamo a scaricare che sempre dei soldi si tratta no 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 ok andiamo a scaricare che qua con questo si fa un botto di soldi scarichiamo qua bene vai così vediamo già un nuovo percorso erba 1 andrà bene dovrebbe essere là sotto ok eccolo qua vediamo anche questo di percorso quasi quasi sta albero qui davanti ma poi lo butto via ok mentre lui continua a lavorare qua possiamo notare che già il trattore è arrivato dove doveva arrivare va bene oh intanto eccolo qui l'altro trattore quello che ho mandato è venuto un attimo a scaricare quel poco che c'era e mo sta tornando indietro intanto inizia già a crescere il mais ok ok beh vediamo un po' com'è la situazione mo qua ok allora a me interessa togliere un attimo l'operaio ops ho sbagliato vabbè ok mi interessa continuare anche qua ma guarda che velocità va 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 e che ci vuole e che ci vuole tanta potenza all'occorrenza guarda ricchi come ti trovo alle rime almeno con questo trattore quando ragazzi si tratta di lavori pesanti eh lui mi torna utile meglio di niente che vi ricordo appunto che stiamo giocando alla difficoltà massima eh tutto sommato riesco a fare un po' tutto va anche giocare alla difficoltà massima non ho grosse difficoltà dopo dopo due anni ormai che gioco su questo gioco ho accumulato la bellezza di 300 ore su farming simulator e mo ottobre dai raga che esce il 17 farming 17 porto avanti questa serie fino a quando non esce il nuovo farming quindi la porta avanti fino a ottobre nel bene o nel male si va avanti fino ad ottobre con questa serie cosa? e già più un'altra volta? ma se non ha fatto neanche lol bestiale o pazzesco va ah ok va bene va bene va bene ho capito una cosa assurda ah ma solo 3005 ha scaricato ah già è vero che si sposta io me ne son dimenticato che fermo non ci sta sto disgraziato mentre scarica vai va ecco questo è il problema che poi lui cammina io me ne son dimenticato io me ne son dimenticato vai così scarica tutto già fatto? già fatto va bene allora tu da qua ti devi togliere bello anzi facciamo una cosa facciamo una bella cosa chiamiamolo così di là si sposta perché sennò questo non può fare il giro io non l'ho chiamato non ho cliccato da nessuna parte sta avvenendo lo stesso ah no ci deve essere un'impostazione sbagliata che impostazioni c'hai? aaaaaa ok va meglio così dunque oh finalmente va vediamo pure questa che prima o poi la devo togliere stami di anzi ma perché non la tolgo adesso stami di trebbia ma quanto mi costa una più buona? quale c'ho io adesso sto usando questa? ah si eh la t590 c'ho si o se no? uh c'è questa centottantanove mila quasi quasi ma famo così vai raga va buttiamola via sta cacchio di me di trebbia che stra... eh che piccola va mi sono scocciato la vado a vendere va con i soldi che facciamo compriamo un modello più potente più grosso no no più grande lavoriamo meglio e poi più avanti ne compriamo un'altra ancora per ora due nel bene o nel male bastano dai allora per venderla raga basta portarla qui al negozio perché se la vendete direttamente vi danno poco ma se la vendiamo qua la lama non l'ho venduta perché beh forse mi serve forse no non so se riesco a comprare pure la lama per quello vendi 90 mila ok ed infatti mi costa 189 adesso comprare questa che è un po' meglio io ho 43 mila euro ho bisogno di una lama decente ok ragazzi ho trovato la lama che dobbiamo usare per la acros 595 ci sta pure questa ma ho la sensazione che poi non possiamo se compro questa non possiamo poi scaricare compriamo quindi questa perfetto quindi abbiamo la nuova mietitrebbia con la nuova lama una lama un po' più grande perfetto perfetto andiamo per di qua devo andare di nuovo a scaricare il fortis dove sta forti ok già questo sta scaricando di nuovo ma che fa sta avvenendo qua ah no no non può essere perché ha scaricato ora dov'è che stai andando cosa fa vuole scaricare perché boh vabbè comunque a noi interessa andare a scaricare sto tizio ancora una volta ancora una misera volta dobbiamo scaricarlo mo se la vai in avanti perché sono non è contento scarica scarica e non da zaddà a spostarti ma è così ok o mi sposto io ok qui va tutto bene allora la usiamo sta nuova cosa qua sta acros oh yeah finalmente raga una nuova mietitrebbia dai che ci stava questo che cos'è questo che cos'è ah 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 mandana paglia la devo attivare è già attiva mi pare ok questo è orzo vediamo se esce la paglia importante ecco ok la paglia vale un mucchio di soldi raga è vero che devo anche reimpostare il camion qui perché io ho detto di lavorare con l'alt con la mietitrebbia che ho venduto quella lama lì la vendiamo sicuramente però la lascio lì dov'è poi vedo di venderla tanto non serve a niente ormai beh comunque dai abbiamo fatto un altro buon acquisto una bella una bella mietitrebbia buona buona con una lama già più larga oh ha finito finalmente quello non ci credo finalmente abbiamo finito con le barbabietole andiamo un po' più da vicino la nostra nuova mietitrebbia oh yeah perfetto c'ha anche una capacità maggiore c'ha quindi da 6.000 siamo passati a 9.000 mi pare di capacità massima quindi ci devo stare dietro un po' di meno giusto una striscia e circa il 50% poco più credo perfetto molto bene va bene ragazzi il tempo come sempre vola vola via per questo gameplay diciamo che è tutto abbiamo provato il nuovo trattore abbiamo comprato una nuova mietitrebbia abbiamo finalmente finito di raccogliere le barbabietole ora c'è da dedicarsi un po' qui c'è da usare un po' il trattore per continuare a seminare così così cose così quindi dai se avete qualche consiglio raga commentate lasciatemi pure i vostri consigli iscrivetevi al canale se non siete già iscritti lasciate un bel mi piace se la serie vi sta piacendo e ci vediamo